Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha firmato a nome dell'amministrazione regionale un protocollo d'intesa con il comune di Monselice, la provincia di Padova e la società Italcementi. L'obiettivo è la redazione di un master plan che individui soluzioni per la riconversione dell'area industriale dell'ex cementificio, un percorso mirato per recuperare l'intera area e tornare ad inserire lavoratori. L'insediamento produttivo dell'Aitalcementi negli anni passati era arrivato ad occupare fino a 500 persone, oggi è chiuso. Il protocollo è soltanto la fase preliminare di un più articolato procedimento urbanistico di riqualificazione dell'intera area industriale.